La Glencore non fa marcia indietro e conferma il ridimensionamento della produzione in Sardegna col conseguente licenziamento di centinaia di lavoratori. E' quanto emerso questo pomeriggio a Roma nel corso del tavolo tenuto presso il Ministero delle Imprese, convocato dal Ministro Adolfo Urso, cui hanno preso parte il Ministro del Lavoro Marina Calderone, la Presidente della Regione Alessandra Todde e gli Assessori all'Industria Emanuele Cani e al Lavoro Desire Manca. Non possiamo accettare in alcun modo il licenziamento di centinaia di persone, ha rilevato la Presidente Todde. Abbiamo chiesto a Glencore di prendere in considerazione tutte le opportune iniziative affinché si tenga fede agli impegni assunti con le parti sociali. Abbiamo anche chiesto di rivedere la decisione di interrompere la linea Zinco e di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali della Portovesme. Per noi è necessario costruire ogni soluzione possibile per il mantenimento o l'eventuale ricollocazione dei lavoratori delle imprese d'appalto di San Gavino e Portovesme. Non permetteremo che la Sardegna venga calpestata e non abbandoneremo le famiglie e il nostro futuro produttivo. Attendiamo che il governo, come annunciato, riconvochi le parti in tempi brevi, conclude la Presidente Todde.